Se non affrontiamo insieme anche questa pandemia e le sue conseguenze nel continente africano, ci troveremo nei prossimi anni ad avere altre onde lunghe di crisi migratorie. Il virus ci può aiutare a capire che dobbiamo, come dice Papa Francesco, remare tutti nella stessa direzione. Siamo sulla stessa bacca europei e africani, aiutando l'Africa aiuteremo anche noi europei. 13 forni senza lume di uomini e donne trovati il 2 ottobre 2019 nel Sahara, tra Algeria e Niger. Con loro ricordiamo quanti sono morti nel deserto, Osman e la sua giovane moglie Uwafa del Sudan. Non dimenticare quelle persone che sacrificano la loro vita, perdono la loro vita nel tentativo di arrivare in Europa. Quindi è un messaggio fortissimo per l'Europa che non si dimentichi di questi sacrifici e faccia delle politiche che siano politiche di accoglienza e che tengano conto di tante persone che sono in condizioni estreme.